Generali, partner di vita. Generali, partner di vita. Generali, partner di vita. Generali, partner di vita. Generali con Catania e Pescara. Ma la stagione invernale sullo scalo algherese riserva molte sorprese. Dal mese di novembre la compagnia irlandese conferma ben sette voli nazionali con Milano-Bergamo, Milano-Malpensa, già gestiti in regime di continuità territoriale anche da Volotea, con Venezia, Treviso, Bologna, Pisa, Napoli e Bari, ai quali si aggiungono quattro destinazioni internazionali, come Madrid, Lisbona, Bruxelles e Ketowis. L'intelligenza artificiale nelle scienze ostetrico-ginecologiche. Questo è il titolo del congresso in programma dal Ghero dal 27 al 29 ottobre. Nella giornata conclusiva, con una tavola rotonda, si confronteranno i rappresentanti della regione e i vertici della sanità del territorio. Nelle tre giornate di lavoro verrà focalizzata l'attenzione sul ruolo che i sistemi di intelligenza artificiale hanno nella gestione della patologia femminile. Si porrà l'accento sul ruolo che i sistemi di intelligenza rivestono nella nostra epoca guidando la diagnostica prenatale, la valutazione del benessere fetale. Saranno trattati anche temi in renti gli interventi chirurgici-ginecologici, con piattaforme di robotica e le prognosi di pazienti affette da tumori, con l'introduzione di terapie biologiche mirate. Si inizierà domani alle 15 all'Hotel Catalunia con i saluti delle autorità, tra queste il rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti, il commissario dell'AU di Sassari, Antonio Lorenzo Spano, e i presidenti delle società scientifiche, Sigo e Agui. Si proseguirà con gli interventi dei professori Salvatore De Sole, Grosso, Tistarelli e Zullo. Il tema della giornata sarà la riproduzione medicalmente assistita. È iniziata questa mattina alle 10 in piazza Castello a Sassari la staffetta per il centesimo anniversario del milite ignoto. La cerimonia si è aperta con l'esibizione della banda della brigata Sassari. In seguito è stata depositata la corona d'alloro sotto il monumento Edimonios davanti alla caserma La Marmora, assieme ai militari della brigata Sassari. Con il generale Giuseppe Bossa hanno preso parte all'evento anche illustri autorità locali e il cappellano militare dell'esercito. Una manifestazione sportiva simbolica per onorare i caduti in guerra, organizzata dal comando Forze Operative Sud di Napoli, a cui la città di Sassari ha aderito con il 152esimo reggimento fanteria della brigata e con il reparto comando e supporti tattici e attriti agonisti di associazioni locali. Il primo staffettista ha dato il via alla gara alle 10.30, percorrendo 6 chilometri nel centro della città. Una corsa che si snoderà anche sulla Budi Budi fino allo Stedio dei Pini, proseguendo per tutta la prossima notte. Prevenzione, la parola chiave dell'evento che si è tenuto ieri a Sassari, nella Sala 3 della Biblioteca Universitaria di Piazza Fiume, organizzato dalla Conferenza delle Donne Democratiche della provincia di Sassari. Quattro i medici relatori che in una sala grimita si sono impegnati a portare avanti una campagna di sensibilizzazione sull'importanza di incrementare, specialmente in questo periodo di post-pandemia, il numero di visite oncologiche e di screening per il tumore al seno, all'utero e alcol non retto. La Conferenza delle Donne Democratiche della provincia di Sassari, rappresentata da Tiziana Spanu, ha potuto realizzare l'evento grazie alla collaborazione con Giovanni Fiori, direttore della Biblioteca Universitaria, e con la struttura Complessa Prevenzione e Promozione e Salute ATS Nord e Sardegna. Collaborazione che si può dire abbia dato vita a un grande risultato, portando non solo il pubblico, prevalentemente femminile, a partecipare attivamente all'evento con numerosi interventi, ma anche e soprattutto la possibilità di continuare a diffondere un messaggio importante, che prevenire, ovvero individuare la patologia per tempo, è ciò che può fare la differenza. 18 artisti provenienti da tutta l'isola ieri hanno partecipato all'esemporanea di pittura intitolata 25 ottobre a Balai, Porto Torres tra arte, devozione e tradizione, che si è tenuta nel parco di Balai dalle 9.30 del mattino sino alle 18.00. L'evento, curato dall'associazione TNT Global Art, si è ispirato al martirio dei santi patroni della città, Gavino, Proto e Gianuario, e all'abbigliamento tradizionale turritano. Le opere prodotte durante la giornata di ieri saranno esposte da oggi sino al 5 novembre nella sala superiore dell'antiquarium turritano. I vincitori del concorso saranno premiati proprio il 5 novembre, alle 17.00 da una commissione di esperti nell'Aula Consiliare del Comune. Ritorna alla grande prosa e danza a Sassari Info e prenotazioni www.cedaxardegna.it Sì, Darnet, proteggetevi dal Covid-19. Da Sidernet, mascherine certificate chirurgiche da 20 centesimi, FFP3 da 2 euro, FFP2 bianche a 75 centesimi, FFP2 colorate a 90 centesimi. Acquistare in grande conviene, solo per le mascherine, su un valore minimo di 100 euro, uno sconto del 10%, 500 euro sconto del 20%, 1000 euro sconto del 30%. Termoscanner da 23,90 euro, Ossimetro digitale da 19,90 euro, Guanti in vitrile da 13 euro. Sidernet e a Sassari in zona industriale pre Danieda. Qui troverete i presidi per la protezione individuale e la sanificazione. Sidernet distribuisce in tutta la Sardegna. Telefono 079 30 27 030. Sidernet Pelle certificato in sacchi da 15 kg a partire da 4 euro e 69 centesimi. Riscaldarsi costa meno e non fai fatica. Inizio brioso del campionato di terza categoria gironi E ed F della provincia di Sassari. Per il girone E il Santa Maria Regina Totubella ha battuto 3 a 0 il Deportivo Badde Longa, partita che è stata dominata dalla squadra della Nurra. Vittoria fuori casa per lo Sportinguri che vince con un 2 a 1 in casa del Nuguedu San Nicolo, mentre la Tiesina ha battuto i vilanovesi del Minerva per 3 a 1. Nel girone F l'Andrea Dori ha vinto 3 a 2 contro i Porto Torresi dell'Ale Castiglia. A Trinità da Gultu l'Isola Rossa e lo Sporting Paduledda hanno riservato per il derby un emozionante 3 a 3. Successo anche Delli Punti che con 4 a 0 ha dominato la gara imponendosi contro la Ciaccia. Infine un'altra partita si è svolta in romangia tra il Santa Lucia Sennori e la Fulgor Sassari con la vittoria finale per 3 a 2 da parte della squadra di casa. Rinviata la partita di Valledoria tra il Coda Ruina e il Saramonte. Nel nostro parco e nella nostra area marina l'estate non finisce mai.